Rivolgo un cordiale saluto alle persone di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dalla Siria, dalla Terra Santa e dal Medio Oriente. Terra martoriata questa, eh? E dobbiamo pregare per questi fratelli che stiano in guerra. E per i cristiani perseguitati che vogliono cacciarli via di quella Terra, preghiamo per questi fratelli e sorelle nostri.